Dobbiamo cercare un attraversamento pedonale, io gli darò il comando zebra, che è il comando per cercare le strisce, foran, zebra, zebra, il cane mi trova le strisce, c'è il gradino, mi fermo, bravissimo Obelix, complimento, druber e attraversiamo, gerade, zebra, bravo Obelix. Qui c'è un altro ostacolo e il cane si ferma con le due zampe anteriori sopra il marciapiede. Bravo! Il cane è insostituibile, perché il cane non ti dà solamente due occhi che non hai più per varie ragioni, ma ti dà la vita. Obelix è un labrador di poco più di un anno, un cucciolone che sta per avere una grande responsabilità, ha ancora un paio di mesi di addestramento infatti e sarà pronto per diventare il fedele compagno di un non vedente. Il suo lavoro sarà fondamentale per l'autonomia del suo amico umano. Dall'Imbiate, sede della scuola caniguida dei Lions, ogni anno vengono consegnati circa 50 cani ad altrettanti ciechi in Italia e in Europa. In totale dal 1959, anno di fondazione del servizio, ne sono stati affidati 2078. Oggi la richiesta è in aumento, molte persone aspettano il loro alleato a quattro zampe e la lista d'attesa si è allungata. Abbiamo quasi 170 persone che aspettano il loro angelo a quattro zampe e purtroppo tutti i giorni ho telefonato da loro e lo dico col gruppo in gola perché non so cosa fare, proprio perché il presidente quando è che mi dà il cane? E lo aspetto molto per poter fare una vita normale. Abbiamo tante persone che aspettano per cercare di aiutare più che altro le persone che sono più vicine a noi anche perché questo è importante, perché quando il non vedente ha il suo cane guida non è che venga abbandonato a se stesso ma è sempre in contatto con la scuola. I Lions con un cane saranno a Como domenica pomeriggio, ospiti della città dei Balocchi in una delle casette di piazza Cavour dalle 14 alle 19. Negli anni è stato fatto molto, moltissimo, oggi a Limbiate oltre alla scuola c'è una nursery all'avanguardia dove nascono i futuri cani guida, il cucciolo resta i primi tre mesi con la mamma poi dopo lo svezzamento viene dato in adozione ad una famiglia volontaria per farlo socializzare. Si tratta di una fase fondamentale per lo sviluppo del suo carattere e della sua crescita fisica poi intorno all'anno Fido è pronto per iniziare l'addestramento a scuola. Noi stiamo pubblicizzando ultimamente questo servizio ma non solo per quello che è dal punto di vista sociale che è certamente una cosa molto grande ma anche perché stiamo cercando famiglie che siano disposte ad aiutarci nella prima fase di addestramento se l'addestramento, il pre-addestramento di socializzazione del cucciolotto è fatto bene anche noi siamo avvantaggiati poi nella distruzione che viene data durante i 6-7 mesi di addestramento del cane. Per promuovere questa iniziativa e per conoscere le altre attività del centro i Lions come detto domenica pomeriggio saranno a Como mentre è sempre a disposizione il sito caniguidallions.it ci sono tanti modi per aiutare un servizio importante che dona, come dice lo slogan, due occhi per chi non vede.